Ciao a tutti, sono qui con il nuovo album di Who No e ho letteralmente amato questo album Cioè, a parte Thanks You, che è fantastica, ma anche Loco quella con Seol Ghi, delle Red Velvet Io amo, amo i TVSQ Allora, sperate che tolgo tutte le foto, che eccetera eccetera che non so neanche cosa ci sia dentro Allora, così, penso che vi ho tolto tutto Ok, ve lo faccio vedere No, vabbè, guardate che bello Allora, qui abbiamo il CD E' semplicissimo Anche il video musicale dove lui è tipo un gangster Mamma mia, mamma mia Morta E per chi è entrato Negli ultimi anni nel Kpop non penso conosca I TVSQ Sono abbastanza vecchi come gruppi Però sono fantastici, io li adoro Guardate questo photobook, guardate lui Tra l'altro l'SM sta ottenendo i formati degli album più o meno tutti uguali Mamma thanks you, mamma mia Mamma mia Ho perso di averlo ascoltato all'infinito Guardate queste foto, mi piacciono un sacco a me queste foto qui Anche la canzone con Seol Ghi Ma è il video musicale dove lei sembra tipo psicopatica Mamma mia La adoro Che brutto rumore Spero che non si stacchino le pagine Perché queste pagine qua No, ambulanza Scusate, l'ambulanza sotto Ecco, perfetto Oh, ma anche questa è di foto Io amo le foto in bianco e nero House party Oh C'è Cioè Lui in camicia Illegale Illegale Guardate che bello che è Ah, i primi piano Le mani, le mani Io impazzesco per le vene Sugli uomini Guardate qui So qua tra l'altro Non è lo stesso tetto Dove ha fatto la canzone Jessie Mi pare di sì Mi sembra Non mi ricordo Quella canzone era di Jessie Però mi ricordo che c'era un tetto così Scusate, questa è la pancia Quasi ora di pranzo Brontola Che bello che è Mi piace un sacco Poi Dentro C'è Una marea di roba In realtà Vabbè Solito foglietto SM Non riesco a capirlo Una volta aveva due pagine Basta Adesso è diventato Adesso è diventato Lunghissimo Vabbè questo E poi abbiamo Un poster Credo Questo poster Che bello che è E poi Che carino Aspetta Vediamo se Non si vede una ceppa Le faccio farvela vedere Non si vede così E non si vede cosa Non lo faccio Vabbè comunque Questa diapositiva Non so Se è riuscito a vederla Pensaci Comunque questa Carina Molto scura Però carina Ah poi abbiamo una postcard Abbiamo una postcard Credo che questa sia random Non sono sicura Però Caruccia E poi La fotocard Questo è il retro 3, 2, 1 Ah No vabbè Guardate Questa Fotocard Mamma mia Adoro Poi con lo sfondo Arancione dietro Bellissima Bene Per questo unboxing è tutto E noi ci rivediamo Nel prossimo Ciao Ciao